Cari amiche e cari amici, vi propongo un articolo molto interessante scritto da Julius Evola nell'aprile del 1973, è un articolo tratto dalla rivista La Destra, il numero 4. Già abbiamo rilevato la necessaria relazione del concetto di una destra autentica con quello di tradizione, così dei riferimenti ad autori ad orientamento tradizionale possono essere utili per affrontare una complessa problematica. Intanto vogliamo dare un chiarimento sulle idee di René Guénon che è stato considerato come il propugnatore del tradizionalismo integrale. Guénon è già abbastanza conosciuto in Italia, viene considerato come un maestro e un caposcuola in Francia e lì ha finito con l'essere accettato anche dalla cultura ufficiale e accademica. L'opera di Guénon è complessa, ma anche organica. Anzitutto è da considerare una critica radicale del mondo moderno, la quale si direferenzia da quella dei vari autori di ieri e di oggi per il suo avere un punto di riferimento positivo che è il mondo della tradizione, mondo di cui quello moderno è l'antitesi. Come tradizionale viene descritto un tipo universale di civiltà che in forme varie ma omologabili si è realizzato più o meno compiutamente sia in Oriente che in Occidente. La civiltà tradizionale, afferma Guénon, ha punti di riferimento metafisici e caratterizzata dal riconoscimento di un ordine superiore a tutto ciò che è umano e contingente, dalla presenza di elite che traggono da questo piano trascendente i principi e i valori necessari per fondare un'organizzazione sociale ben articolata, per aprire le vie verso una conoscenza superiore, infine per conferire alla vita un vero significato. Al polo opposto sta la civiltà moderna, alla quale sono propria una desacralizzazione in grande, il disconoscimento sistematico di tutto ciò che è superiore all'uomo come individuo e come collettività, il materialismo, l'impulso a realizzazioni del tutto profane e temporali e un insano attivismo. Se Guénon riconosce che civiltà di tipo tradizionale sono esistite sia in Oriente che in Occidente, afferma che esse sono ormai reperibili solo in Oriente, avendo in vista soprattutto l'India e che un riferimento ad esse può essere efficace per una reintegrazione occidentale. Guénon era convinto del sussister in Oriente, malgrado tutto, di gruppi tuttora depositari della tradizione. Praticamente, egli ebbe rapporti diretti propriamente col mondo islamico, dove vene iniziatiche, sufi e ismailite, esistono tuttora accanto alla tradizione esoterica, ossia religiosa. Guénon si islamizzò ad oltranza, si stabilì in Egitto e lì ricevette il nome di Sheikh Abdel Wahid Yasha ed anche la cittadinanza egiziana. In seconde nozze sposò un'araba. Guénon non fa misteri del fatto che dopo varie esperienze deludenti in ambienti occultistici francesi, grazie ad esponenti dell'Oriente, riusci a trovare la giusta via, quella della conoscenza iniziatica o metafisica. Guénon afferma che il razionale non è il limite riguardo all'intuizione intellettuale estrema dell'uomo che è che la normale condizione umana può essere rimossa e superata. Così, in via di principio, all'uomo sarebbe possibile tendere verso un piano superiore, in cui l'individuo si trasforma e si integra. Analoga era l'antica concezione dell'agnosi. L'iniziazione sarebbe la via più diretta e regolare per una tale realizzazione. La tradizione concerne l'insieme di questa conoscenza d'ordine metafisico e non semplicemente umano. Guénon parla anche di una tradizione primordiale, concetto dove si deve distinguere un aspetto metafisico da un aspetto storico. Riguardo all'aspetto metafisico bisogna riferirsi a forme che non derivano da trasmissioni materiali e storicamente accertabili. Riguardo all'aspetto storico ci si deve riferire all'origine concreta comune di un complesso di tradizioni che il Guénon chiama tradizione iperborea, situata all'inizio del presente ciclo di civiltà, segnatamente delle civiltà di ceppo indo-europeo. Tutto ciò porta alla tesi dell'unità trascendente delle forme tradizionali o unità trascendente delle religioni, che sono argomento di un libro scritto da Schuon, discepolo di Guénon. Una delle capacità attribuite a colui che si è innalzato fino al sapere superiore sarebbe quella di scorgere questa unità, così come si può esprimere un unico concetto con parole dell'una o dell'altra lingua. Guénon ha dato prove concrete di possedere questa capacità, di là da quanto è proprio di una mera erudizione. Per la critica del mondo moderno, Guénon utilizza parimenti idee tradizionali. Per lui non fa dubbio che oggi ci si trovi, alla fine del ciclo, nel Kali Yuga o Età Oscura, preconizzato dalle antiche dottrine indiane, ma previsto anche da altre tradizioni, ad esempio l'Età del Ferro di Esiodo. Negazione dunque di ogni fisima di quel progresso che non è altro che una superstizione dell'uomo occidentale. Guénon è uno degli autori che hanno interpretato in un senso involutivo e decisamente antimarxista il corso della storia e ogni interpretazione di destra antimarxista del corso della storia dovrebbe far proprio questa prospettiva. Una delle tesi di Guénon è che una civiltà normale, ossia tradizionale, sarebbe caratterizzata dal primato della contemplazione e della conoscenza pura sull'azione, e tale è anche uno dei fondamenti della sua critica al mondo occidentale moderno, dove egli individua l'opposto, ossia la preeminenza dell'azione. La constatazione del carattere completamente desacralizzato e deviato dell'Occidente moderno non ha impedito a Guénon di considerare il problema di una sua possibile rettificazione. Partendo dalla convinzione che se l'Occidente ha avuto una tradizione, essa ha corrisposto al cattolicesimo, egli a tale riguardo aveva visto come punto di partenza un'integrazione tradizionale dello stesso cattolicesimo. Questo non aveva escluso l'opportunità di contatti anche con elementi orientali. Ma ancor prima che i recenti orientamenti postconciliari del cattolicesimo indicassero lo stato di fatto, e qui sarà bene rilevare che l'ecumenismo del cattolicesimo postconciliare non ha nulla in comune con ciò che il tradizionalismo integrale aveva in vista. Ebbene, ancor prima che i recenti orientamenti postconciliari del cattolicesimo indicassero lo stato di fatto, egli a tale proposito non si era fatte troppe illusioni. E lo dichiarò anche in una lettera che ci scrisse, confessando che per principio si era sentito in dovere di non escludere certe possibilità, senza però attendersi qualche risultato. Unico risultato è che proprio attraverso Guénon diversi cattolici sono giunti a penetrare il senso più profondo del cattolicesimo, dei suoi simboli e anche dei suoi dogmi. Purtroppo non si tratta di persone che abbiano peso nella gerarchia ufficiale e che quindi possano esercitare un'influenza di rilievo. D'altra parte, un teologo cattolico rileverebbe probabilmente delle incompatibilità tra la verità della ortodossia e ciò che deriva dalla metafisica con cui Guénon si rifà. Il Guénon era allergico a tutto ciò che è politica in senso stretto, ritenendo che non vi sia nessun movimento attuale a cui potesse aderire, tuttavia appartiene in pieno diritto alla cultura di destra. Nen Guénon la negazione di tutto ciò che è democrazia, socialismo e individualismo disgregatore è radicale. Ma Guénon va anche più oltre, si porta in domini appena toccati dall'attuale contestazione di destra, oppone alla scienza moderna e allo scientismo la conoscenza tradizionale, le scienze tradizionali e non ha paura di rivalorizzare queste ultime dopo averne segnalato il vero senso, indicando non solo i limiti della conoscenza scientifica profana, ma anche le devastazioni che derivano inevitabilmente da questa visione del mondo della scienza moderna e dalle applicazioni della scienza moderna. Una frase di Guénon riassume in modo lapidario il senso dell'avventura a cui si è dato l'uomo occidentale a partire dal Rinascimento. E la frase è questa, si è staccato dai cieli con la scusa di conquistare la terra. Guénon prese in considerazione la formazione di centri di una intellettualità, ossia di una spiritualità tradizionale, con un'azione da considerare realisticamente limitata al solo dominio culturale. Anche un'azione del genere non sarebbe da sottovalutare. Oggi è venuto abbastanza in voga parlare di una cultura di destra, senza però che risulti chiaro che cosa essa dovrebbe essere, e senza che si possa evitare la sensazione di qualcosa di improvvisato, a tal fine un approfondimento delle concezioni di Guénon è auspicabile. Data la varietà e la molteplicità dei soggetti da lui trattati, sarà bene però lasciare da parte quelli che hanno una particolare relazione con l'esoterismo, la metafisica, l'iniziazione. Benché in Guénon questi siano il fondamento ultimo di tutto il resto, non c'è bisogno che col metterli in primo piano date la loro eccezionalità. No, non c'è bisogno di metterli in primo piano data la loro eccezionalità. Si deve sempre ricordare che il sapere tradizionale non può essere separato dalla realizzazione. La Soma nicciano, l'uomo è qualcosa che può essere superato? E anche il postulato della conoscenza superiore parte dall'idea che lo stato umano dell'esistenza è solo uno degli stati moltipli dell'essere. Guénon insiste molto sulla necessità del collegamento con una determinata catena iniziatica all'interno di un'organizzazione regolare che trasmette un'influenza spirituale. Per un chiarimento, un'analogia può essere offerta dalla consacrazione di un sacerdote da parte di un vescovo, amministratore di influenze spirituali, in cui la Chiesa si ritiene sia depositaria. Nel caso di Guénon, quel collegamento deve essere principalmente realizzato attraverso catene iniziatiche islamiche. Ma a chi non se la sente di rimettersi ai musulmani e agli orientali, Guénon in realtà offre molto poco. Naturalmente, le sette le conventicole occultistiche, teosofiche, pseudo-rosacruciane, si moltiplicano ai nostri giorni, ma rappresentano veramente qualcosa di spurio, di inautentico, e non possono in alcun modo essere prese in questione. Per questo, la situazione è difficile. Il problema resta aperto e forse deve essere riformulato in termini diversi da quelli indicati da René Guénon. Resta il fatto che il tema del tradizionalismo integrale può venire isolato da questa problematica ed essere utilizzato nello schieramento di una cultura di destra. Bene, cari amiche e cari amici, se il video vi è piaciuto condividetelo e aiuterete il canale a crescere. Pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.